Mi sembra molto difficile riuscire a realizzare una riforma fiscale così complessa a costo zero. Comunque, in questo caso a zero sono le chiacchiere. Noi aspettiamo i fatti, che il governo venga a porre sul tavolo del Parlamento una riforma generale del fisco. Noi saremo disponibili se è una cosa seria, se è propaganda o se è un annuncio destinato a concretizzarsi tra 4 o 5 anni, è chiaro che non ci interessa.